Grande fratello, vipsa e paura per Delia Duran che confessa della notte di non sentire più i sapori e gli odori ma immediatamente la regia del grande fratello censura le immagini e le parole. Vediamo cos'è accaduto. È stato il sito blog tv.it a riportare questa preoccupazione. Molti utenti infatti hanno detto sul web e hanno riferito la frase che Delia avrebbe pronunciato parlando con i conquilini della casa, cioè Delia dice di non riuscire più a sentire negli odori e nei sapori. Inevitabile, oggi come oggi, non pensare che tutti questi sintomi potrebbero essere riconduggibili a uno dei sintomi del covid-19 nonostante però tutti i fini ogni giorno sono regolarmente e periodicamente sottoposti a tampone. In tanti hanno sentito le parole di Delia. Ci sono tanti tweet al riguardo. Ad esempio, un utente scrive Delia dice che non sente più i sapori, Jessica con la nausea, Soleil con gli occhi e non mi ricordo chi con la tosse. Ma che sta succedendo? Un'altra dice Delia non sente i sapori? Bene, ma non benissimo. Immediatamente anche altri utenti hanno fatto notare che appena Delia ha detto queste parole subito la regia ha censurato le immagini, soprattutto le parole di Delia staccando proprio l'immagine da lei mentre stava andando in onda. Che cosa sta succedendo nella casa più spiata d'Italia? Delia avrà il covid? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Vedremo che cosa accadrà. Nel frattempo, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un like se vi va e attivate la campanellina perché solo così ricordatevi non vi perderete questo ma nessun altro prossimo video. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.